Ritorna questa sera fra noi a mille canzoni di mezzo secolo un personaggio che ha dato vita, ha preso proprio la vita dalla canzone, si tratta di Enzo Di Domenico, il quale sarà accompagnato dal suo chitarrista personale Claudio Romano e ci canterà una canzone di Alfonso Mangione e da Tidio Staffelli, una canzone di tema a Gresta dove la solita storia del lupo e la pecorella, cioè il titolo di questa canzone è O Lupo, signore e signori Enzo Di Domenico. A Gresta di Domenico 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 A Gresta di Domenico